Ciao amici di Youtube, qui con voi e ciao a tutti, oggi ragazzi siamo in un nuovo video finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, ci siamo, anzi a mille, è vero siamo gli sfavoriti, però è una partita secca perché è una finale, forza Napoli, sono qui con Chef Franco, 2-1, stavo quasi per affogare il panino, bello, 2-1, per il Napoli però, no Chef, forza Napoli, speriamo, è iniziata, Napoli Inter, Cazzo, mi raccomando, non mi fai il tuo sangue Bravi, bravi, bravi È pure giallo, eh Non ci mangiare questa sinistra Non per dimessi i palloni, bravo Bravo Giolito Vai Taglialo, Alessio Salve uno a me Oh, fine Oh, arbitro Oh, a me la Ruizio è un luogo Dai 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 Non te la montare Bene, non te la montare Ma napoliate con la mano Ma Rackmanio, non ti ce la palla, non ho fatto bene, non ho fatto bene, questo è possibile male Marco, questo si è fatto, questo ballone Guarda qua, dì Ma putta la volta questa palla ma è tappissimo quando l'ho insegnato si ma non c'è più che lente ma ma se stanno andando girato chissà di lente non fai tra non fai tra non fai tra ma ancora vado a un baracchis se è quello non è fallo è fallo incominciamo bene questa partita e fai bene capitano ma è fallo è stanno andando a terra ma tu guarda ma che sangue ti dà è giallo abitro e cazzo lo vuoi cacciare questo cartellino ma c'è il suo papà ma c'è il suo per te mannaggia mannaggia abbiamo pure il botto porca troia ma noi in città non li buttiamo ma perché volti da paura ma è fuori gioco ma è fuori gioco ma quando ti ammazza quando lo fischi ti guardi che fanno ma tu vuoi viste che fanno ti guarda lì ma non ci siamo pazzi anni ma non a me finisce il primo tempo tra Napoli e Inter è una bella partita una partita combattuta il Napoli ha iniziato meglio poi si è visto l'Inter poi di nuovo il Napoli poi l'Inter è una bella partita come detto prima combattuta voglio solo ricordare c'è una roba ha fatto quel gioco c'è una roba 5 pallone prima term lui c'ha stato combattendo ci vediamo al secondo tempo speriamo bene e forza Napoli sono due ricordi mi ricordo il Gigi Dico è grande giocatore è grande persona sta per iniziare il secondo tempo inizia il secondo tempo di Napoli e Inter si parte dallo 0 a 0 vai dai 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 cam 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 falli saliti falli saliti salito vai taglielo mo taglielo mo taglielo mo taglielo mo taglielo mo serviii ma guarda chi che non hai parato fitti quanti che ho parato il fatto guarda bravo 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 faggi fallo bravo 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 ma che fallo dai ma che fallo ma che fallo c'ha tutti i cartellini ma che fallo di ammunizione che fanno si si ma che fallo c'ha fatto i 15 nel primo tempo così ferma un'azione dell'Inter perché stai facendo gol all'Inter si andava a porta subito perché poi ormai in particolare è rientrato ma qui c'è nuovamente attenzione ma che ma che ma che è già munito e viene espulso si chiama post avete visto l'occasione qual è questo è questo è un vallo di espulso dove 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 sta se espulso venite dove cazzo sta se espulso vedete dove cazzo sta dove cazzo sta sono ladri ditemi dove sta un pazzaccia solo l'altro doveva essere espulso non il cazzo venite non so fanno ma sono pochi di ambo però non fanno e che fa le espressioni una partita di coppia e c'è la roba che va a fa ma la voliamo finire o no dai però non rompetemi il cazzo ma non ci rubi tu lo cazzo cammera allora questo qua ha messo gli obiettivi su che giallo ma il malo di Simeone non ci sta il primo malo di Simeone non ci sta cazzo c'è la roba ha fatto mille palle il primo tempo non ci sta scasso cazzo 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 sti partiti da così c'è la roba arbitro di merda c'è la roba ma che cazzo c'è la roba ha fatto 25 palle è stato buttato fuori cazzo sono cinquant'anni che ho beccato a lui, e si stanno sempre i fatti, sempre che ha piacere il giallo? e se si fa le giallo, ha fatto tre volte ha rovinato la partita, fratello tre volte ha fatto ha rovinato la partita ha chiuso sti guarda ma ti alzati non c'è un rigore, dai ma ce l'ho rigore dagli il rigore dagli il rigore, si è andata la panica tris dagli il rigore dagli il rigore dagli il rigore non c'è ma presto la partita nooo abitro è come dire se è un pezzo di abitro si rubia i fatti hanno fatto da Siriusci attaccando sei un pezzo di eccovi d'abitro sei un pezzo di tutti chi siete solo dei ladri sapete solo rubare solo rubare solo rubare per evitare l'Inter che come detto ha sfruttato l'ampiezza del campo con Sanchez che si è allargato ha aspettato la sovrapposizione di un compagno vergognatevi vergognatevi il riguro coraggio di sultato vergognatevi vergogna 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 arbitro di merda vergognati vergognati hai rovinato una finale vergognati hai rovinato una finale Vartobre te ne sei vergognati vergognati Vieni con mancia a perdere la finale! 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 Non vi ho chiesti il cavo! Ragionce Cristian Vieri! Della storia! Della storia! Della storia! Della storia! Ma è sempre questo! Ah, ti te lo fai scassato qua! Non siete nessuno! Con questa superiorità che vi credete di essere! Non siete nessuno! Qui davanti alla nostra postazione c'è grande confusione e grande caos Come il campo? È finita! L'Inter! Sì di scuola! Sì di scuola! Ergogna! Una partita rubata! Ergogna! C'era una 5-6-1! C'era una 5-6-1! Alla rubata una granda! Alla rubata! Sti ladri! Vada 3! Bravo, hai fatto una grande partita! Bravo, è giocatore del Napoli! Bravo, è giocatore del Napoli! Vada rubata una notte! Solo con l'abitro pulito qua! Solo con l'abitro! Vada cagata sotto! Solo con l'abitro! Vada cagata sotto! Mi sa paura, sei punti! Te hai pure insati! Se hai pure a te! E' tutto programmato come abbiamo! Magu da abbracci! La finale va rubata così! La finale va rubata così! Ma per piacere! Magu da abbracci! Complimenti all'Arbito! Bravo, Arbito! 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 Tutto giallo! Tutto giallo! Tutto giallo! Tutto giallo! E qua perché non l'hai buttato fuori a Ciaranova? Ma ma ho piacere! Ho piacere! L'ho partito rubato! Ma facetelo buono al mio partito! Facetelo buono! Faccio solo i complimenti al mio Napoli e a questi ragazzi che non hanno mollato un secondo la partita è stata rubata! Quindi complimenti al Napoli! Ho fatto una grande partita! Per il resto voglio partita rubata! Vergognatevi! Vergognatevi! Grazie!